Abbiamo accolto da subito la stimolante sfida di FICO, affrontandola con grande passione e applicando valori educativi, creatività e soluzioni tecnologicamente avanzate, nella convinzione che questo mix di ingredienti potesse dare una forte caratterizzazione al parco. Abbiamo espresso tutto il nostro know-how, abbinando l'eccellenza tecnico-creativa all'eccellenza nuova astronomica del Made in Italy, allo scopo di esaltare il concetto di esperienza multimediale come una nuova frontiera dell'apprendimento. Abbiamo quindi sfruttato la tecnologia più d'avanguardia, servizio della funzione didattica del parco, estendendo la sua esperienza reale ed educativa al nuovo mondo digitale, aggiungendo al contempo spettacolarità. Ogni area prevede infatti tre momenti distinti, conoscenza, approfondimento e intrattenimento, con filmati curati dal centro sperimentale di cinematografia di Milano. Il nostro obiettivo è stato quello di trasformare i cinque padiglioni universignati in ambienti immersivi che consentono al pubblico di esplorare, conoscere e vivere la biodiversità del nostro paese. Questa grande esperienza multimediale consentirà ai visitatori una fruizione ed un apprendimento dei contenuti immediata. Più intuitiva alla portata di tutti, dai ragazzini e agli adulti, unendo la forza dell'emozione al valore della conoscenza. Grazie. 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 Grazie.